ok abbiamo fatto quindi la piantina ora questa piantina qua che sembra innocua ci ho perso già 40 minuti facendo registrazione a vuoto perché componendola poi come particella non usciva bene nel senso che veniva tutta ruotata tutta stortata eccetera quindi alla fine ho scoperto che il motivo era sempre il solito mi ero dimenticato di applicare la scale e rotation infatti un indizio di questo l'ho poi avuto perché se seleziono vedete che se la seleziono vedete che gli metto qui local quindi normalmente è global e vedete la freccia che va in su ma se gli faccio vedere local cioè l'asse z di questo oggetto vedete che sta puntando in posizione strana quindi non è giusta quindi cioè bisogna farci l'apply scale e rotation come facciamo a fare l'apply scale e rotation? allora lo facciamo su col ctrl A e poi facciamo apply rotation e scale tac! però a questo punto il punto mi è spuntato in un occhio nel senso che dice non puoi farlo perché visto che questi frammenti vengono da un multi user cioè praticamente dalle particles prima di poter essere gestite come oggetto unico dobbiamo ancora fare l'unificazione e l'unificazione lo si fa con U quindi si va a fare make single user e si fa object and data a questo punto avendo fatto make single user posso tornare a fare ctrl A rotation e scale e vedete che adesso la freccia è giusta e se andate a vedere la rotation e la scale sono giuste questa è la premessa per riuscire ad allineare bene gli oggetti vale anche per l'esercizio precedente una volta che ce l'abbiamo ben fatto quindi magari salviamolo save as e la chiamiamo piantina con clear con apply scale e rotation andiamo quindi a disporre questa piantina in un piano quindi facciamo ma possiamo anche metterla quindi facciamo move 2 quindi si è spostata di là quindi qui praticamente abbiamo ah tra l'altro mi ha cambiato anche lo stelo originale interessante quindi probabilmente è proprio perché non avevo fatto prima questo meccanismo ma adesso ripartiamo gli basta la piantina quindi facciamo shift A e costruiamo un piano questo piano lo facciamo abbastanza grosso cerchiamo di vederlo più o meno così su questo piano che abbiamo visto ci serve solo per metterci il sistema particellare ci facciamo un sistema particellare in cui ci mettiamo prato di pianticelle si chiamano pianticelle per modo di dire quindi andiamo a hair quindi escono queste hair allora non ne mettiamo mille perché ricordiamo che ogni pianticella era composta da 20 steli e quindi così verrebbero 20.000 steli ne mettiamo un pochino di meno ne mettiamo per esempio 300 sono un po' più radi e andiamo a mettere l'oggetto corrispondente l'oggetto corrispondente era object e gli mettiamo piantina mesh come vedete la piantina mesh adesso esiste ma è girata tutta su un lato questo perché l'abbiamo allineata verso la z e lui cerca di metterla più o meno così no? perché in realtà su questi sono capelli e quindi i capelli sporgono in questo modo quindi bisogna ruotarlo ruotarlo lo facciamo con il trucco c'è rotation in qualche parte qua non troverlo mai la chiudiamo ah! advanced bisogna mettere advanced e poi a questo punto compare il rotation e nel rotation dobbiamo mettergli o global x ecco global x che è quello che lo mette in su quindi vedete che le piantine vengono in questo momento messe come tutte diciamo affastellate in realtà poco affastellate ma cominciamo a metterci un po' di randomicità e la randomicità anzi magari 300 mettiamo un po' con 1000 come veniva con 1000 diventa forse più 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 erboso diciamo però vedete che poi non riesco poi a muovermi tanto con questo computer quindi per semplicità torniamo a 300 ok così riesco a muovermi in realtà no in realtà non era per quello proviamo di nuovo a rimetterlo 1000 perché non aveva vabbè un po' lento però si può fare ok e mettiamo tutte queste cose quelle cose che abbiamo visto di randomicità quindi andiamo sul sulla rotazione e gli mettiamo a rotazione un po' di randomicità qua e anche randomicità proprio nella posizione di base vedete che diventa quindi magari non tantissimo ok e poi anche nelle dimensioni di ogni singola piantina vi ho detto che nella physics possiamo mettere una randomicità quindi fanno alcune più grosse e alcune più piccole magari partiamo abbastanza grosso così e poi aggiungiamo la randomicità perché abbiamo visto che questo riduce un po' e così abbiamo ottenuto un un manto erboso di di queste piantine beh visto che ci siamo ormai a questo punto è interessante è possibile quando si fanno queste cose definire con la tecnica che abbiamo visto all'inizio dei posti dove le piantine sono un po' più rare e quindi vedremo adesso proprio il concetto di di addensamento o di rarefazione delle piantine magari lo facciamo in una situazione di di le sides facciamo più grosse così si vede benino vedete che qui abbiamo tutta la nostra erba e quel meccanismo lo si fa facendo a questo punto con 7 facendolo con white painting quindi cosa facciamo andiamo in edit mode gli mettiamo il ecco questa cosa qua che pesa un pochino di meno andiamo in subdivide quindi facciamo quindi selezioniamo selezioniamo tutto e facciamo tools ah vabbè chiuso subdivide quindi subdividiamo questo e subdividiamo i vertici del piano arriviamo a circa mille facce ok allora una volta fatte le mille facce andiamo nella modalità di white paint ok allora qui è solo una cosa ma magari è meglio anche vederlo perché facendo così vedete che non vediamo e quindi riusciamo a paintare meglio e noi facciamo add questa cosa qua e proviamo a dirgli di mettiamo soltanto praticamente una struttura però a dire se noi mettiamo questa cosa qua qui dipingiamo vedete che ci sono delle aree più blu delle aree blu chiaro e delle aree verdi e poi andando avanti può diventare progressivamente giallo e rosso ora con questo painting quello che succede se vogliamo vedere è che adesso non ancora fa che non abbiamo messo il vincolo ma se andiamo qui e gli diciamo vertex group e qui nel vertex group c'era questo gruppo ecco vedete che tutte le piantine si sono concentrate esattamente dove io ho fatto il paint se io intanto che sono qui che faccio paint comincio a paintare vedrete che non appena smetto lui mette le piantine lì quindi in questo modo si può controllare tra l'altro qui forse 1000 sono troppo enormi effettivamente e ne mettiamo invece che 1000 mettiamo 300 ecco vedete che diventano un po' più umani da vedere però vale anche il contrario nel senso che io posso dire che nelle zone dove ho indicato invece non ci siano piantine e questo lo si ottiene andando sotto e cliccando questo questo tastino negate se faccio negate le piantine si disporranno in realtà possibilmente lontano da quelle zone che ho pintato quindi se io continuo a pintare qua vedrete che quella zona lì tendenzialmente rimarrà senza piantine qui magari posso anche fare un lancio un pochino più alto e la strength più forte in modo tale da farvi vedere l'effetto vedete che più dipingo qua e più le piantine in realtà si mettono da un'altra parte conclusione della faccenda io posso ottenere degli effetti se andiamo in edit mode posso ottenere degli effetti interessanti oltretutto se io vado qua e faccio connected e qui magari aumentando le dimensioni c'è for my allora siamo connected dunque le dimensioni del comunque c'è questa possibilità di modificare il piano che magari poi vediamo un'altra volta allora qui su questo video non ha senso quindi torniamo definitivamente al rendered e questo è un esempio del rendered di una zona fatta nel modo che abbiamo indicato qui purtroppo per ottenere degli effetti migliori bisogna aggiungere anche magari nella texturizzazione del materiale anche degli effetti riflessivi quindi per dire il materiale che abbiamo usato che è tra l'altro sempre lo stesso quindi andiamo a material qui abbiamo selezionato ritmo quindi ok erba questo qui è il materiale erba qui possiamo modificarla in questo modo questo materiale per dire adesso c'è soltanto una immagine questa che è stata applicata soltanto come colore ma noi possiamo applicarla anche come per esempio translocenza e come anche normal map e come intensità di riflessione e in questo modo si dovrebbero ottenere degli effetti diciamo leggermente diversi qui l'unica cosa prendiamo il prendiamo soltanto il piano centrale vedete che è suddiviso in tutte le sue cose e lo facciamo la uvmap di questo quindi uvmap facciamo tab facciamo vediamo come prendiamo in ok così che fa meno lag lo prendiamo con l'uvimage editor selezioniamo tutto e facciamo un'unvrap di questo oggetto facciamo un'unvrap possiamo fare il smart uviproject che ok lo fa così lo spara così però sicuramente la cosa importante è che questo dobbiamo assegnarlo a un materiale diverso quindi prendiamo un secondo materiale più materiale che per il momento faremo un materiale neutro neutro di grigio così facciamo assign ok vabbè proprio nero così forse non è bello facciamo diffuso ma lo facciamo semplicemente verdino scuro e rinpo qui sulla terra come se parti qua ok quindi questo questo punto se lo vediamo effettivamente nel rendered ok ci fa vedere la questa erbaccia che abbiamo fatto in un modo abbastanza ragionevole per questo video è tutto credo che vi ho detto parecchie cose su come fare erba erbaccia e prati almeno le basi poi in realtà ci sono molte altre cose ma queste sono le premesse le basi le basi le basi Grazie a tutti.